Abbiamo ritrovato all'interno del processo di trattamento meccanico presso la discarica, cioè il trattamento obbligatorio che viene fatto su tutti i rifiuti indifferenziati prima del loro smaltimento in discarica, un kit di razzi di segnalazione, razzi pirotecnici che si usano da tutte le imbarcazioni, che siano imbarcazioni da pesca o da riporto. Sono oggetti pericolosi in quanto esplosivi e in quanto con possibilità di dare fuoco che in un cassonetto durante la raccolta e nella fase di smaltimento finale possono ingenerare esplosioni accidentali o incendi che si potrebbero rivelare molto pericolosi per i cittadini e per l'ambiente. Per chi non fosse a conoscenza a questo punto, visto per come hanno anche aggettato questo tipo di rifiuto, qual è la soluzione? La soluzione è rivolgersi a chi dove si acquistano quelli nuovi si possono conferire gratuitamente quelli vecchi. Come tutti i sistemi di gestione dei rifiuti ormai da qualche anno in tutta Europa esiste la responsabilità condivisa del produttore, produttore o distributore, cioè chi mette comunque sul mercato si deve preoccupare della raccolta dell'usato. Questo vale per i RAI, vale per le batterie, vale per gli oli minerali, vale per qualsiasi bene. Ancora più logico e soprattutto corretto per tutte le persone di convivenza civile è la corretta gestione di oggetti che sono pericolosi, cioè è comunque un rifiuto esplosivo. Può esplodere dentro il cassonetto mentre una signora o un bambino gettano altri rifiuti e può esplodere dentro il mezzo di raccolta perché i nostri mezzi hanno delle pale che comprimono e come poi si può vedere, ne faccio vedere uno per dimostrare il rischio, questo è stato compresso, non è esploso ma ha una potenziale pericolosità insita. E soprattutto alla fine, e devo ringraziare l'attenzione degli operatori della discarica, durante le fasi di preparazione del rifiuto prima del suo smaltimento si sono accorti che dalla busta, dal sacchetto, sono riusciti questi materiali e sono riusciti ad isolarli. Abbiamo visto che il giro di raccolta era un giro dei rifiuti indifferenziati nei cassonetti della zona mare, zona porto e della città di Pesaro, ci siamo preoccupati anche perché non è la prima volta che questo succede. Quindi massima attenzione, rivolgetevi ai rivenditori, esiste un consorzio che è il Consorzio di gestione pirotecnici che fa questo di attività senza fine di lucro, del tutto gratuitamente, quindi basta informarsi e agire nel rispetto delle regole e nella correttezza degli altri.